Buon semplice l'hanno portato e la divertente. Quindi ero così. Questo è quale. Allora questo se lo spingo avanti non è. Sì. Allora, mi piacerebbe solo quale è un sistema. E' 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 due. E' un sistema. Sono più santi. Scusate. E' un sistema. E' così. E' un sistema. E' un sistema. E' un sistema. E' il sistema. Grazie. 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 Ecco. Lucchetta Giorgia stavano a vedere, ultima chiamata. Grazie a tutti 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 Speriamo che abbiate un buon ricordo ancora di questa manifestazione Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti